È iniziata a San Pietro in Vincoli una raccolta firme per dotare la Casa della Salute, che serve anche alle frazioni vicine, di maggiori servizi a favore della popolazione, in particolare visite specialistiche a favore dei più anziani. Le firme vengono raccolte direttamente all'interno della struttura. Non appena verrà raggiunta la soglia di 350 firmatari, le richieste potranno essere presentate al Consiglio Comunale di Ravenna. Portavoce dei residenti è diventata in queste settimane la lista La Pigna. Abbiamo dato corso circa un mese fa ad una petizione che mira a raccogliere le firme per chiedere di dotare la Casa della Salute dei servizi indispensabili per la tipologia di residenti delle Ville Unite, che è una tipologia di residenti per lo più anziani, quindi hanno bisogno soprattutto di visite specialistiche. Quindi con questa petizione noi chiediamo proprio che vengano finalmente pianificate delle visite specialistiche, ad esempio quella geriatrica, quella del dentista, quella anche dell'oculista, all'interno della Casa della Salute, proprio per renderla un punto di riferimento sanitario per il territorio, perché altrimenti non se ne capisce la ragione di inaugurare questi presidi all'interno dei territori se poi non si fanno veramente dei centri, non si rende veramente dei centri di servizi adeguati per quella popolazione. La richiesta viene dal fatto che appunto è una popolazione anziana, come abbiamo detto, quindi è sempre più difficoltoso per loro raggiungere l'ospedale. Esatto, il problema in particolare per le zone del Forese e dei Lidi, qui in questo caso stiamo parlando appunto del Forese, è quello anche di riuscire a raggiungere poi il centro città per avere a disposizione i servizi. Allora se la logica è quella appunto di aprire questi presidi per dare dei servizi e far sì anche che i residenti del Forese e dei Lidi non siano costretti poi a arrivare in città, allora lì dobbiamo dotare appunto di tutto quello che è necessario per renderli pienamente operativi. In più abbiamo il problema, non l'abbiamo sempre toccato, in particolare per il Forese, in particolare per la zona delle Vene Unite, della totale mancanza di un trasporto pubblico adeguato. Quindi sommiamo la difficoltà magari di una persona anziana a spostarsi, sommiamo anche a questa difficoltà quella di non trovare il trasporto pubblico, il servizio pubblico, diventa veramente impossibile per alcune persone riuscire ad avere quei servizi che sarebbero basilari in un comune civile come il nostro. Punto stiamo con la raccolta firma? Siamo circa 200, nonostante appunto il periodo difficoltoso delle feste natalizie, stiamo concludendo. Peraltro lo anticipo il 15 gennaio alle 8 presso il circolino in San Pietro in Vincoli abbiamo dato vita, daremo vita ad un incontro pubblico sulla sanità e in particolare sulla Casa della Salute alla quale appunto invitiamo tutti i residenti ma tutti i cittadini ravennati e lì miriamo appunto a chiudere il numero delle firme necessarie per poterla poi depositare in comune il prima possibile. Grazie a tutti.